Intro Bella gente benvenuti in questo nuovo video sul canale Signori allora oggi siamo qua in un video speculazione sullo snapshot 21v13a Che potrebbe uscire domani e vi ricordo che sia domani che dopo domani Visto che uscirà lo snapshot del primo d'aprile Ci troveremo in live sul sito Viola per analizzarli assieme non appena dopo che uscirà il video Quindi vi invito a vedere il video e poi venire in live Detto questo allora signori innanzitutto ci sono vari motivi per la quale potrebbe uscire lo snapshot Ma prima di farlo ci tengo a sfatare il mito famosissimo mito della caverna Che non è quello di Platone che si è andato a diffondere più che altro nella comunità italiana E in quella straniera anche comunque Che prende spunto nasce dal video Ask Mojang di qualche giorno fa pubblicato sul canale ufficiale di Minecraft Nella quale in una parte del video Lady Agnes citerebbe insieme alle Lashcaves Delle certe Gypsum Caves Le caverne di gesso Che in realtà sono soltanto citate E qui sfattiamo il mito Dai sottotitoli automatici di Google traduttore Signori non ci saranno le caverne di gesso Tutti oh mio dio le caverne di gesso Nuove caverne ci hanno mentito Incredibile no Signori la 1.17 avrà soltanto 3 biomi sicuramente E questi 3 biomi signori potrebbero diventare di più Sì ma nelle prossime versioni Quindi non nella 1.17 Le caverne di gesso sono un semplice errore Di traduzione dovuto un po' alla storpiatezza Nel pronunciare la parola Dripstone Caves Che è quella in realtà pronunciata e intesa dalla Lady Agnes Anche perché prendendo il contesto generale Al di là dell'ascolto unico Che spesso guardando un video in inglese Ci facciamo ingannare dai sottotitoli Perché non ascoltiamo più il video ma leggiamo quelli Ma al di là dell'ascolto stesso In cui dice chiaramente Dripstone Caves Prendendo il contesto generale Perché citare le nuove caverne Lash Caves and Gypsum Caves E non Dripstone o altro Cioè perché citare proprio queste nuove caverne In un punto così a random del video E non citare invece dei Dripstone Che nel contesto avevano decisamente senso Per il resto lo snapshot di domani Secondo me uscirà per più motivi E l'unico motivo che mi fa dire che non uscirà nulla È perché il giorno dopo ne dovrà uscire un altro ancora Fa un po' ridere il tutto E però realmente potrebbe essere l'unica vera motivazione Per la quale non potrebbe uscire un contenuto proprio domani Beh innanzitutto domani signori potrebbe uscire Perché settimana scorsa nel tweet di Niente Snapshot Ci dissero effettivamente che la settimana dopo Questa era più speranzosa C'era la speranza che magari uscirà Eccetera eccetera È il solito discorso melodico che fanno gli sviluppatori Ma che ogni volta si rivela Per essere positivo Chi lo sa Magari intendevano però quello di Quello di Pasqua E non quello normale Il 21V13A Chi lo sa Chi lo sa Sarà interessante da vedere Nel tweet che vi dicevo prima di Eric signori È un tweet da parte di uno sviluppatore ben appunto Nella quale ci presenta questa novità da snapshot Che vedrebbe semplicemente La rimozione dei pilastri di legno Generata dalle Manshaft Sui laghi di lava Per quanto Dessero un po' l'impressione di Renderla struttura un po' inverosimile Insomma perché trovarsi in un punto Con Del legno Generato sulla lava Non ha senso Le Manshaft Potranno Prendere fuoco Questo è poco ma sicuro E sicuramente lo faranno anche Però Non da quei pilastri Per il resto Purtroppo Non abbiamo nulla Questa settimana L'avete visto dai miei video sul canale Le news e info Si sono ridotte Del 100% Non è uscito Nulla Non è uscito Assolutamente nulla E Insomma L'ultimo video News e info Effettivo Vero e proprio E diverso dal solito Era proprio una settimana fa Martedì scorso Non è uscito nulla È tutto un mistero E Spero effettivamente Che vengano Fatti uscire Due snapshot Quindi 21v13a E 21v13a Infinito 14a Strano Non lo so come definirlo Fatto sta che La mia speranza è proprio questa Va bene signori Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Vi dite lasciate un bel like Iscrivete al canale Commentare Passate anche dall'iscrizione Dove trovate il link Al gruppo Telegram Al profilo Instagram Al sito Di Ola del Live Detto questo signori Benveni che tutto Alla prossima Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima